Si corre questa sera ad Indianapolis, negli Stati Uniti, il decimo appuntamento del Moto Mondiale 2014. Ieri le prove ufficiali per stabilire la griglia di partenza con la pole al Cannibale Marquez, 1'31'619, decima in carriera, ma l'Italia sorride con il secondo posto a sorpresa per Andrea Dovizioso, 1'31'844. Quinto Valentino Rossi che riscalta parzialmente il nono posto nelle libere dell'Udente, invece il settimo tempo per Andrea Iannone. Partenza della gara alle 20, ora italiana.